www.siciliareporter.com, l'informazione che mancava. Per gli amici di Sicilia Reporter ci troviamo in compagnia dell'onorevole Gaetano Cani, c'è stata la conferenza stampa di presentazione della coalizione che appoggerà il candidato alla presidenza della regione Sicilia, Nello Musumeci. Come mai l'Udc ha scelto di affiancarsi a Musumeci? Stamattina si è celebrata questa conferenza stampa, finalmente, dopo tante discussioni, tanti incontri, anche tanti liti tra le varie componenti della coalizione centrale, ma alla fine si è riusciti a fare sintesi e a fare soprattutto creare e ritrovare l'unità su un candidato che è Nello Musumeci. Musumeci è una persona molto conosciuta, una persona che non ha bisogno di presentazione, abbastanza esperta, una persona per bene, una persona corretta che spero e sono convinto rappresenterà la Sicilia al meglio. Noi come partito, partito dell'Udc, abbiamo scelto di restare e appoggiare il centro-destra e personalmente il presidente Musumeci perché crediamo molto nella persona, crediamo molto nel programma che stiamo contribuendo a definire e soprattutto perché dall'altra parte, nel centro-sinistra, c'è una grandissima confusione, una grandissima divisione e anche per tutto quello che è successo nell'ultimo periodo per il malgoverno e per le tante cose non realizzate e anzi realizzate nel peggiore dei modi. Soprattutto mi piace una frase che oggi Musumeci ha ribadito in questo governo che nasce questa giunta e una giunta politica e fatta di politici perché oggi la politica deve ritornare autorevole, deve ritornare con la dignità che merita e non deve vergognarsi di se stessa e deve prendere realmente in mano la situazione, affrontare e risolvere i problemi. Dall'altra parte abbiamo uno schieramento di antepolitica con i 5 stelle e dall'altra ancora un centro-sinistra diviso che litiga, che soprattutto non ne produce ma anche parla di civismo, vuole così nascondersi dietro questa forma di ipocrisia che non porta da nessuna parte. Noi non abbiamo bisogno di nascondere, abbiamo bisogno di politica, di buona politica, di persone corrette, di persone per bene come Musumeci, come Gietano Armamo che è stato designato vicepresidente, come Roberto Lagalla, l'ex rettore dell'Università di Palermo, persone per bene, persone competenti che possono ben rappresentare l'intero governo, l'area moderata, l'area del cattolicesimo democratico e quindi possono veramente affrontare e risolvere i problemi dei siciliani. Ecco, una legislatura è passata, si ritorna dunque alle elezioni, lei ha deciso di scendere nuovamente in campo? Sì, certamente, io scenderò in campo, mi ricandiderò nella coerenza di sempre, nel mio partito di sempre che è l'Udc, rappresenta l'area dei moderati, del cattolicesimo democratico, delle persone che sono in campo per ascoltare le esigenze dei cittadini che sono presenti per affrontare quotidianamente e giornalmente i problemi e cercare di affrontare. Spesso si possono risolvere, spesso non si risolvono, ma l'impegno è sicuramente garantito e soprattutto la passione e la binagazione e l'interesse solo ed esclusivo della collettività, delle comunità e dei cittadini.